Caporale St. John, giusto? Signor, sì. Entra. Stavo bevendo una tazza di tè alle erbe, gentilmente offerto dal tenente Whittaker. Ne vuoi una tazza? Aiuta la digestione. Ah, no, grazie, signore. Io cerchiamo solo il registro dei turni. Ho un incarico per te. Uomini, caporale. Anche se non meritano questo nome. Hanno preso una di noi, il tenente Justin Norwood, un'ottima ufficiale. E ora è prigioniera, quindi... Ok, la riporterò indietro, signore. Con uomini come te ci riprenderemo questo mondo. Puoi andare. St. John, ti voglio il rapporto all'avamposto di Diamond Lake. Capitano, sì, signore. Caporale, bene. Ho il lavoro perfetto per i tuoi talenti speciali. Certo, sì, signore. Ricordi, Vasquez? Sì, il disertore. Abbiamo seguito fino al campo dei taglialegni, certo. Beh, cerchiamo un suo amico, il sergente Lee Anderson. Prima di finire in cella ha ucciso una guardia ed è fuggito. Beh, bel codice d'onore ai vostri uomini. I nostri uomini. Ormai sei uno di noi, ricordi? Ho segnato sulla mappa il punto in cui l'hanno avvistato. E poi, come Vasquez, non era solo. Ottimo. Capitano Curi, sono dove il sergente Anderson è stato visto l'ultima volta. D'accordo, Anderson. A noi due adesso. No, deve essere qui da qualche parte. Ma tu che diavolo è... Interessante. Che abbiamo qui. Oh merda, lupi. Devo cercare meglio. Ok. Che cosa abbiamo qui? Oh, per la miseria, Anderson che stava trascinando. Come faccio ora a riscuotrare la taglia? Oh. Oh. Caporale Deacon St. John Ehi, mi ricevi, amico? Ehi! Taylor, dimmi, che vuoi? Ah, ci sei? Ok, finalmente ho capito come funziona quest'affare. Canale sicuro e tutto il resto. Come va, amico? Taylor, avrei da fare al momento, per cui... Sì, sì, lo so, scusa, amico, scusa. È che si dice che nel campo circoli della droga, proprio sotto il naso del colonnello, roba buona, pare. Tu ne sai niente? Io non mi faccio, Taylor. Ok, ok. Centro. 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 Grazie. Stai scendendo qui sotto. Ok. A terra. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo. Ma ora... Ora sentiamo il dolore, tutto quanto, fino all'ultima goccia. Siamo svegli e teniamo gli occhi aperti. Finalmente capite cosa ho sempre cercato di dire. Abbiamo in mano le redini del gioco e ce la caviamo meglio di quanto i federali abbiano mai fatto. Prendete un respiro, riempite i polmoni. Ora siete uomini liberi e nessuno potrà più cambiare questa verità. Passando di qui... Hai ancora la fascia della milizia? Oh, merda. Un idrofobo. Cazzo. Magari posso aggirarlo. Bene, ora treme. Capitano, ho trovato il tuo uomo, Anderson. Avevi ragione. Indossava ancora le insegne della milizia. È morto? Diciamo che un branco di lupi si era già occupato di lui molto prima del mio arrivo. La fine che merita un assassino è un ladro. Sì, signora. Grazie, caporale. Puoi andare. Perché non ti impegni? Perché sei ancora qui? Perché non hai ancora completato il percorso a ostacoli? Ti piace tanto? Vuoi ripeterlo ancora? Eh? Accomodati, principessa. Siete al sef! Siete al sef! Siete al sef! Signore! Signore! Siete al sef! 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 Sì, stiamo attraverso. Grazie a tutti. Ah, merda, sono sempre. Alla grande. Altra taglia. 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 Whittaker. Rapporto. Deacon, caporale St. John, sì. Ho trovato l'ingrediente richiesto, il lievito. Non è molto. Beh, sono sicura che sarà sufficiente. Ascolta, per curiosità, perché ti serve? Scusa, ma sono impegnata. Ne parliamo quando passi per la consegna. Chiudo. Ok. Ne ho anche un ragazzo. Al diavolo. Signora? Senti, puoi smetterla, per favore? Scusa? So che la situazione è strana, ma non posso farci niente al momento. Beh, io dormo in una caserma con un branco di soldati del cazzo, mentre mia moglie vive in una tenda privata nell'area ufficiali. Niente di strano. Dico. E la vedo solo quando consegno le scorte elencate su un modulo. Anche questo è tutto normale, signora. E il lievito, grazie. Ma prepari un dolce? Se ti serve un forno, su dove trovarla. No, no, mi serve per creare proteine virali che a loro volta attivano anticorpi. ma naturalmente eri sarcastico. Dolci, proteine virali, non cambia molto. Aspetta un attimo. Tieni. E grazie. L'hai già detto. Per essere rimasto. Sì, signore.